E allora ragazzi, buongiorno e finalmente di questo nuovissimo video Oggi siamo in questo nuovo video E cosa andremo a fare oggi? Andremo a giocare a Minecraft In una fantastica mappa dove per superare ogni livello Potremo utilizzare solamente un blocco Questa mappa è una mappa Abbastanza tantissimo parkour Abbastanza tantissimo, è una terminologia incredibilmente aulica Che soltanto i poeti più grandi hanno usato in tutti i tempi, ma ok Comunque possiamo utilizzare solamente un blocco per livello E sarà una cosa abbastanza difficile Perché io sono una persona molto indecisa E quindi come lo usiamo questo blocco, come? Però sono anche super super contento Uno perché sarete contenti voi che con i parkour delle serie di Aerobrain E tutto quanto è sempre stato un casino Seconda cosa perché voglio mettermi alla prova Per superare questa bellissima sfida Quindi raga mi raccomando Raggiungiamo i 4000 mi piace Mi raccomando Se siete da computer premete con il bellissimo mouse Se siete al telefono con il vostro fantastico dito indice Premete molto bene Anche col pollice Con quale dito gli mettete like voi? Col pollice o col... Ce l'ho mai fatto capo? Provate sotto questo video Così mettete di like Wow E vai con la sigla Ok raga siamo all'interno di questa mappa Qui sono un po' di regole Che sui della mappa E niente Possiamo subito iniziare Perché vi spiego tutto quanto qui Esatto All'interno del gioco Livello 1 Dimostrazione Abbiamo solamente un blocco Che è questo qui Viola Insomma questa clay di colore Colore blu Non lo so Che è sto rumore E possiamo piazzare solamente questo blocco Per poter superare il livello Quindi ci basta tipo metterlo così Noi saltiamo qua Poi qua E tac Passiamo al livello 2 Livello facile Ok forse questo qui è più semplice del previsto Quindi lo mettiamo super qua Saltiamo qua Qua E qua E raga Siamo proprio fuori Ok che è super facile Oh raga Sono una schiappa Ho lisciato il blocco di shift Ok No il blocco Il tasto di shift Ok Qui potrebbe essere un po' più complicato Perché dobbiamo passare ad un'altezza superiore Sono un po' Sono un po' Ditelo Ma attenzione un po' Lo Quacodè Ok Ultimo salto E voilà È fatto anche questo Livello 4 Ok qui le cose Iniziano ad essere sempre un po' più complicate Casomai sbagliassi una piazza di blocco Ci basterà droppare questo bottone E magicamente Torneremo con il blocco in mano Questo qui ci fa selezionare il livello Ma non possiamo selezionarlo ora Perfetto Allora qui è un po' più difficile Dobbiamo salire di altezza Quindi tipo se lo piazziamo qua Poi qua Poi saliamo qui sopra E poi Ok no sono caduto Ho sbattuto la testa Non so dove siamo morti nel nero Ok calma calma Attenzione la testa Perché ci sono dei blocchi sopra Ok Ok Ragazzi Ragazzi Livello 5 Red zone Zona rossa Cosa fa la red zone Vedete che A parte che sto per cadere Vedete che non ci fa piazzare tipo i blocchi qua Esatto raga Nella zona rossa Non possiamo piazzare il blocco Attenzione Attenzione Questo non era tipo messo qui Noi tipo dall'angolino E vabbè Si può fare Vi giuro che si può fare Ok ma questo è calmissimo Sei calmissimo Perché hai tipo i pie Sei scarso Scarsissimo Ecco il salto angolato Perché sbatto la testa Contro quel drannatissimo blocco rosa raga Perché veramente è una cosa in ammiss Ok È facilissimo Sono veramente scarso io Livello 6 Semicerchio Vedo delle scale qui dietro Ok ci siamo agganciati per un pelo Qui Qui siamo un po' scarsi Va bene Qui dovremmo saltare così Perfetto Forse questo qua Sapete che si può fare anche senza blocco Però per sicurezza Non lo piazziamo qui E andiamo Quanto sono scarso Quanto Qua Qua Da 1 a 10 41 Ok raga Aiutatemi Ok raga Siamo ancora A livello 7 Stiamo già scelerando tantissimi Cos'è qua Ah I blocchi invisibili Quella è la zona rossa Perbacco Perbacchino Come Come faccio Ah forse in questo E vabbè però E vabbè che cos'è E come faccio E come faccio Ah forse aspettate un'idea Posso piazzare questo blocco Qui esatto Ed è più sem Non è più semplice Sono solamente scarso io Ottimo Non è più semplice Vabbè ma te Ma cioè Diccelo subito Non lo so Chiudiamo il gioco Ce ne andiamo Ok Cioè è un salto di un blocco Davanti a te Basta ragazzi Basta Questo qui è stato molto bello Spero che vi sia piaciuto Vabbè ragazzi Ma che cos'è Ma ditemelo Perché mi preparo Cos'hai Un personaggio di minecraft Hai le mani unte Del panino Con l'olio Non lo so Ok Ok E vabbè niente ragazzi Niente Sono scarso Sono scarso No Ce l'avevo fatta Ce l'avevo fatta Ce l'avevo fatta Tipo per pochissimo E vabbè Ok Ok Ce l'abbiamo fatta Con un super Una super mossa So much blocks Livello 8 Troppi blocchi Quindi vuol dire Che non dobbiamo utilizzarne alcuni Secondo la logica Di questo livello Forse Forse no Siamo proprio scazzi Noi E basta Dobbiamo utilizzarne Va bene Cos'è Ditemelo subito Ok Questo salto è fattibile Forse anche questo qui È fattibile Ok Forse anche questo È fattibile Ok E adesso Dobbiamo tipo mettere Un blocco Qui dentro Salire E vabbè ragazzi Questo salto è veramente Il salto della vita Ok No No raga Ce l'avevo creduto Vi giuro ero convinto Di averlo superato Ok Salto della fede Super rincorsa E niente ragazzi Cosa diavolo sta succedendo Cioè Cosa diavolo sta succedendo Ok Ritentiamoci Sì Ok Livello 9 Dropper Ah c'è un dropper Dov'è il dropper Non vedo nessun dropper Però vedo la mia morte Incredibile Wow Sono fortissimo a fare il parkour in corsa Dove devo mettere questo blocco Qui Qui Non ne ho più palle di idea Forse per fare il solito saltino diagonale Qua si scende Nel dropper E si prende Minchia raga Se li sciavola Prezzo un plate d'oro C'è ok Not clay Abbiamo lo slime block Raga io con lo slime block Penso che sia la cosa più scrausa Che io abbia mai fatto in vita mia Non sono capace E non ho mai capito come funzionano Però So che Ecco Rimbalzano Non molto bene Devo essere sincero Neanche in questo momento Molto bene Neanche adesso Ok Credo di aver capito Tipo Così Sì Ok Adesso l'altro Sempre di E vabbè ragazzi Ma è tipo super difficult È tipo È tipo troppo difficile questa cosa Ah ho capito Trato il trucco C'è il trucco sotto Ah Se premo Se corro Mentre E vabbè ragazzi C'è il trucco E vabbè E vabbè Qua va tipo messo sotto Sono un genio ragazzi Sono un cavolo di genio E ma adesso Adesso Ah La morte Ok adesso dovrebbe essere facile Si va qui Si rimbalza Si Oh Cavolo del vetro Il cavolo del vetro È un nuovo vegetale Acquistabile in tutte le edicole E in tutte le frutterie d'Italia Il cavolo vetro Ok Sì Sì Dove si va No Non sto capendo Aspetta 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 Lì dentro Qui dentro Non lì sciare Ok Livello 11 Too wide Forse Se tu mettiamo il blocco qua Evitiamo tipo un salto No sono scarso in generale Ok Sono troppo scarso Veramente Ah Ah Ok Ok calma Qui c'è il giochino della scaletta Si sa Ah non si sale lì Perbacco Qua si va Si si va Non so come Ma ce l'abbiamo fatta Ecco qua potrebbe essere veramente complicato Allora perché tipo da qua A qua Sembra Sembra fattibile Ok È fattibile E qua no però E là non è fattibile E là non è fattibile Per niente Ok raga Penso che Il blocco che abbiamo piazzato lì all'inizio Vado messo qui Ho questa incredibile sensazione Perché da qua Non penso Possiamo fare tanto Oltre che Un salto Assudo Ok abbiamo Sperato da mettere il blocco Eh ma come faccio Devo tipo È impossibile Come faccio Ok È fattibile raga È fattibilissimo Così Così E ora è tutto uguale Ok raga ci siamo Ci siamo Ora il blocco Dobbiamo pazzarlo tipo Non lo so Qua È una distanza ragionevole Sì Così Poi si va così Raga l'ultimo blocco L'ultimo Anzi Il penultimo No Perché Dannati i blocchi rosa Un giorno Li verrò a prendere a casa Tutti Ok forse 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 no Ok Ok ci siamo raga Penultimo Penultimo avviso Ragazzi Di lasciare un bellissimo Mi piace Perché la prossima volta Che moriamo Quittiamo il video Perché mi sto veramente Indervosendo Vorrei spaccare i computer O cose varie Ma ci manca poco Raga Salto Raga questa me la sento Più di ogni Altro cane Cioè raga Davvero Cioè Non è che io posso stare Una vita Mita intera Sì Sì Livello 12 Difficile Me coiomberi Pensa se era facile Dove devo mettere il blocco Tipo qua Per forza Se no volavo Da lì a qui Ok Ora si fa anche E ora dove vado Cioè tipo Qua E ho capito Ma poi E poi mi vedo in faccia Che cosa faccio Cioè Come faccio ad andare di là Tipo Eh come faccio Devo girarti intorno Sei un mappamondo Cosa sei Non lo so Cioè è impossibile Raga Tecnica mappamondo Tecnica mappamondo Niente Non funziona Giro Giro tondo E cade di sotto Ce l'ho fatta raga Come Come ho fatto E non so per quale motivo Ho cliccato su level selector E me l'ha piazzato lì E non funziona Però ce l'ho fatta Ma Malgo Ma e ora No non ditemi che andava messo qui il blocco raga Ma c'è la scaretta dietro Raga vedo la fine Vedo la fine ok È stato molto più facile da previsto Rainbow Raga facciamo quest'ultimo livello E poi direi basta Insomma se voglio giocare A questa mappa C'è il link in descrizione Per scaricarla Vediamo un po' Se riusciamo È tipo un dropper Cos'è Ah È tipo un Una specie di dropper Una specie di dropper Che mi farà arrabbiare tantissimo Ok È un dropper Cavolo questo È un dropper cavolo Il falsissimo dropper cavolo Oh Oh Senza blocchi Senza piazzare blocchi A meno che qua non posso mettere Eh l'ho sprecato però così Mannaggina Mannaggetta Zia Geppetta Eh vabbè Ma l'ho sprecato Mannaggia Ok E ora si mette tipo questo blocco qua Si scende No vabbè E dai però Ok E va bene così Raga Qua Costruisci il tuo parkour Con una cassa Eh Ah Ok Quindi Non ha più il senso di Un blocco Perché ne abbiamo tanti Quindi finisce il video Quindi raga Per questo video Spero che vi sia piaciuto Veramente tanto Mi raccomando Asciutto un sacco di mi piace A questo video Condividetelo se ancora non lo avete condiviso Mettendo un bellissimo mi piace Iscrivetevi se ancora non voi siete iscritti Per non perdere i prossimi video Seguitemi su Instagram Che è super importante E lo saluterò alle ultime Terje persone che non ci sono mi piace Mi raccomando Instagram Non ho più la voce Sto morendo Quindi saluto Chara9999 Chetano Chetan Christian06 E Wolfander Ciao a tutti e tre Quindi raga per questo video Vi raccomando Niente Tutto Tutto qua